Musica Ancora al centro del dibattito a seguito delle iniziative intaprese dal Regione Lombardia, Veneto e Emilia Romagna nel 2017 la cosiddetta autonomia differenziata, tema che verte nella direzione di un riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a Statuto Ordinario. Queste le priorità della Toscana. Sta ripartendo il dibattito a livello nazionale, la Toscana questa volta ci vuole essere, vuole essere una delle Regioni che chiede, ai sensi del principio costituzionale, in alcune materie un'autonomia differenziata, ovvero maggiore potere, competenze e risorse. In questo caso a animare il dibattito è stato il bilancio di Artea e conseguentemente il dibattito sull'agricoltura, che in Toscana può offrire tanto, soprattutto per la trasformazione dell'ordine mondiale, che sta determinando la guerra, la guerra segnatamente determinata dall'aggressione russa all'Ucraina. E ci rendiamo conto, nel momento in cui si attacca il granaio d'Europa, ecco l'aumento dei prezzi per prodotti agricoli, dal grano al mais, che è consistente e che si riflette poi sui paesi poveri. E allora quando io penso a tutto quello che rappresenta la potenzialità della Toscana, soprattutto in zone come il Sud, l'area senese, la Maremma, il fatto di poter sviluppare delle politiche che valorizzino una produzione agricola che è d'eccellenza in alcuni settori, pensate il vino che sta crescendo nelle esportazioni a livelli esponenziali, l'olio, ma contemporaneamente significa anche prodotti agricoli più diretti, che la fertile nostra terra può offrire oggi, forse in modo anche più conveniente, ecco la necessità di offrire delle politiche che sull'autonomia differenziata dei poteri delle regioni si possono affidare. Parlo dell'agricoltura come parlo dei beni culturali, abbiamo un quarto dei beni culturali dell'intera penisola, il fatto che molti di questi siano chiusi o magari aperti per due o tre giorni la settimana, mi veniva segnalato in questi giorni l'isola d'Elba dove tutti andavano a cercare residenze napoleoniche, ma in realtà poi i margini che lo Stato può offrire per l'apertura di questi musei sono pochissimi, ecco che mi porta a dire che i beni culturali possono avere dalla regione una maggiore gestione e quindi una maggiore capacità poi di ricavare quelle risorse per tenere aperti, per valorizzare i restauri. Analogo ragionamento, impostazioni che ci possano portare a valorizzare il tessuto turistico della Toscana, insomma agricoltura, turismo, cultura, la geotermia che è una fonte di risorse energetiche su cui la regione dovrebbe avere più risorse perché può trovare delle fonti ancora maggiori investendoci, sono i titoli di un capitolo che è quello sull'autonomia differenziata che io apprezzo il ragionamento della Ministra Gelmini, deve essere riaperto e che questa volta vedrà la Toscana protagonista. Con 23 voti a favore e 14 astenuti, l'Aula dice sì alla nuova legge regionale che dovrà favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica rendendo più incisivo il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale, aggiornare la definizione di ciclostazione favorendone la realizzazione, incentivare in coerenza con le disposizioni nazionali lo sviluppo della mobility management, promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, bike sharing, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse, favorire una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati con particolari riferimenti a quelli di interesse regionale introducendo la possibilità per la regione di sostenere i costi della manutenzione ordinaria fino al 90% dell'importo. La nuova legge prevede uno stanziamento di 1.060.000 euro per l'attuazione nel triennio 2022-2024. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione, noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. Ma questa è una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari, penso le ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green, che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento. Abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti, quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica. Perché ad oggi, ad esempio, gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche di sviluppare la loro attività. Ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire. Purtroppo sono state bocciate, ritenendole probabilmente non congrue a quelle che era questa modifica di legge. Come Fratelli Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile. Con alcune osservazioni ci hanno portato poi all'astenzione al momento del voto. In particolare, l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica. Un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica, ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti ciclo plan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate, pur prese in considerazione dalla maggioranza, dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore. E infine abbiamo posto la questione sul mobility manager, che dovrebbe essere quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali e abbiamo proposto che sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente, mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne e secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Portare avanti il piano significa anche creare interconnessione fra mobilità e mobilità dolce, passando da risoluzioni però delle problematiche legate alle stazioni. luoghi intermodali per eccellenza, creando poi stazioni ciclabili e attività collaterali a sostegno. Luoghi di scambio intermodale per eccellenza fra il ferro, la gomma e il trasporto pubblico, ma sono anche in determinati orari del giorno e soprattutto della sera ricettacoli di situazioni non semplici che allontanano spesso e volentieri le persone dal frequentare i mezzi di trasporto collettivo e soprattutto la possibilità di interscambiare anche con le ciclovie. In questo caso l'idea di introdurre le ciclostazioni, cioè i luoghi dove si possono noleggiare e anche lasciare in custodia o addirittura accomodare le biciclette, è un'idea che noi sposiamo in pieno. Naturalmente va accompagnata, l'abbiamo detto, anche dal sostegno con altre attività commerciali che possano rendere appetibile per operatori privati prendersi la responsabilità di aprire o di gestire una ciclostazione perché ancora oggi il mercato non è apertissimo e quindi potrebbe mettere in crisi coloro i quali vogliano gestire le ciclostazioni. Il Consiglio regionale della Toscana approva maggioranza la legge che, come ha illustrato la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia Derberti, si introdurrà nella normativa regionale una disciplina speciale a termine che sarà necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienze del Fondo Complementare. La legge è passata con 24 voti a favore, 2 contrari e 9 astenuti. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. Noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. Non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come penso alle case della salute ma penso anche a tante opere infrastrutturali come organi proponenti che possono essere la regione e lo Stato ma qualora non siano i comuni che i comuni siano parte decisoria, efficace e importante e decisiva di queste opere. Sicuramente vogliamo che quei 4 miliardi che arriveranno per i progetti del PNRR arrivino sui nostri territori. Vogliamo che questi soldi siano spesi fino all'ultimo centesimo ma non vorremmo che queste decisioni passassero sulla testa delle nostre autonomie locali comunali perché sappiamo bene che poi quando si parla di localizzazione di alcune opere ci deve essere il consenso della cittadinanza che lì ci vive. È sicuramente uno dei luoghi simbolo del Monte Pisano visibile da lontano con la sua inconfondibile silhouette. È la torre degli Upezzinghi di Caprona collocata a pochi centimetri da uno sperone roccioso sopra una cava e ricordo di un'originale torretta di circa mille anni fa facente parte dell'antico castello di Caprona porzione del sistema difensivo della Repubblica Pisana. Quella che vediamo oggi risale all'Ottocento e se non ha un valore artistico essendo un rifacimento e da anni in condizioni infatiscenti è un reperto amato e fotografato da tutti e anche per questo l'amministrazione comunale di Vicopisano ha posto su di esso un interesse particolare per arrivare ad un recupero o quantomeno ad una messa in sicurezza. Non è secondario però il fatto che la torretta si trovi in una proprietà privata che comprende tutta l'area della cava abbandonata sottostante. Si dovrà dunque arrivare ad una interazione tra pubblico e privato con un percorso che, come la storia insegna, non sarà di facile realizzazione. Oggi abbiamo incontrato tutta la giunta di Vicopisano ed è stato un momento che ci è servito per fare il punto sulle tante opere che abbiamo finanziato il camminamento del Brunelleschi, le Ximenez, la Botte, la scuola che è stata appena scuola media a cui dovrebbe arrivare anche l'idea degli uffizi diffusi ma anche per rilanciare. Per rilanciare un sogno che abbiamo che è quello di riqualificare la torre degli Upezinghi è un modo per restituire uno dei gioielli più belli della nostra terra alle cittadine, ai cittadini di Caprona, di Vicopisano ma dell'intera Toscana. Non sarà un impegno semplice, la proprietà è ancora privata, dovremmo costruire le condizioni così come abbiamo fatto già per il camminamento del Brunelleschi perché ci sia un rapporto tra pubblico e privato mettere in campo una convenzione che permetta anche a noi di fare gli investimenti di riqualificazione che servono. Penso che questa idea di valorizzare i tanti gioielli che ci sono nella Toscana diffusa porterà nuovo turismo, nuova occupazione ma soprattutto permetterà di riempire i nostri cuori con tanti pezzi di bellezza che a volte diamo per scontati e non riusciamo a vivere. Come in altri casi è importante quantificare la cifra perché pensiamo veramente che non sia una cifra irraggiungibile e con la programmazione e col lavoro si possa raggiungere anche questo che inizialmente era un sogno. La torre però è ricostruita al tardo 800 quindi non sarà un recupero impegnativo come è stato quello per esempio fatto per il soccorso del Brunelleschi proprio per questo siamo fiduciosi chiaramente l'accessibilità è molto difficile quindi prima dovranno esserci le indagini geologiche sulla cava. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!